Macchina che inizia a prendere velocità, favori per Iron, Ok, Kludle. Al comando delle operazioni scatta il numero 6 di Nessun Dorma, Nebrascafi, ancora il numero 1 di Morgana OP, quindi a largo anche Mariahs Cage, più a largo anche Metello. In avanti Nessun Dorma, Nessun Dorma che controlla la situazione, nei confronti di Metello che insiste, insiste a largo Metello e passa, nei confronti di Nessun Dorma, Metello che si installa al comando, nei confronti di Nessun Dorma, poi c'è ancora Nebrascafi, Mariahs Cage, Morgana OP che segue in terza, poi Lietas. In avanti Metello a fare l'andatura, Metello che controlla la situazione, ha sempre la destra libera, anche il numero 1 di Morgana OP e quindi Morgana OP che ora cerca di venire via e gradatamente para l'avanzata di Nebrascafi, va all'attacco di Metello, il compagno di Colori. E poi c'è anche il numero 3 di Mariahs Cage che viene via a largo, in avanti Metello, Morgana a largo, poi Nessun Dorma. Quindi c'è ancora Mariahs Cage che prova ad affacciarsi a largo, sistemi scia Morgana OP, quindi Lietas, ancora Nessun Dorma. In avanti sempre e comunque il numero 7, quindi c'è a largo anche il numero 10 di Ironokey Club Le, quindi Metello in avanti, Metello che controlla la situazione, ha fatto i conti per Venino, il giovane Vitale, ancora il 6 di Nessun Dorma che fa sportellate con Morgana OP, idem per Ironokey Club Le che prova la terza ruota, ma Metello accelera il ribotto, prende un paio di lunghezze nei confronti degli avversari, poi si lotta dietro a più pariglie con la prima formata da Nessun Dorma, poi Morgana OP, Ironokey Club Le, viene via anche Lietas, quindi in avanti Metello, Metello che nel tratto conclusivo non si fa prendere, Nessun Dorma è seconda, per il terzo posto nel finale c'è il numero 10 di Ironokey Club Le, 7.